Siamo qui alla Carni Arena con un'arraggiante Federica Sanfilippo, abbiamo iniziato l'anno veramente la grande, una prova maiuscola, questa è lo sprint. Sì, l'anno non l'ho cominciato tanto bene perché a Capodanno ero a casa ancora con la febbre e con l'influenza intestinale, però sono contenta che sono venuta qua lo stesso a provare le sensazioni mi hanno dato ragione, mi sento bene, mi sono allenata bene anche durante le vacanze di Natale e oggi alla fine sono riuscita a fare quello che sono capace. Infatti hai fatto due zeri, proprio anche molto veloci, soprattutto quelli in piedi, quindi abbiamo iniziato l'anno diciamo 20-20 agonistico alla grande. Sì, vorrei tenermi le stesse sensazioni buone e portarmele anche poi in Coppa e fare la stessa cosa. Anche perché qui di neve ce n'era poca, a Oberhof mi dicono che le situazioni siano abbastanza simili, quindi in teoria ti sei comunque allenata su un fondo che potrebbe essere abbastanza simile. Sì, o anche peggio diciamo perché Oberhof si sa e si prepara già anche di testa che saranno un po' a condizioni difficili e poi vediamo cosa succederà. L'importante è cambiare rotta rispetto all'inizio dell'anno, anche perché fra un po' arrivano anche i mondiali e sono vicino a casa tua. Beh, al momento cerco di star bene e ritrovare di nuovo le sensazioni che vorrei, perché devo dire che il mio dicembre non è stato ottimo. sono partita bene col sedicesimo posto, però poi dopo ho fatto un po' fatica. Quindi adesso il mio obiettivo è fare passo dopo passo. Allora in bocca al lupo. Crepe. Ok.